Ed eccoci nel centro di Katowice. Abbiamo appositamente fatto inserire questo sottofondo musicale per gli amici di Parliamo di Crociere. In fondo c'è la stazione e questa è la galleria Katowice. Dietro Patrizia c'è il nostro caro amico cantante che si è deciso a fare il suo sfondo musicale per noi. Fondo o sfondo? Uno di quelli. Come sempre in queste città polacche c'è bella gente. Passano casualmente. Ed eccoci nel lato culturale di Katowice. Cultural Popolare. Ed eccoci in una parte sempre del viale, la zona di frutta. Oh! Casualmente ci troviamo davanti alla chiesa. Vedo che state guardando la chiesa. ed eccoci in piazza. Di fronte la stazione dei autobus. E qui il mercato. Eccola, l'italiana. Ciao! Ciao!